Il codice di condotta per le organizzazioni non governative è uno dei tre pilastri del cosiddetto piano miniti sull'immigrazione, il piano che ha rivoluzionato la politica italiana di gestione dei flussi migratori, portando a ridurre del 50% gli arrivi di migranti sulle coste italiane nel mese di luglio. Come è cominciata la storia? Tutto è cominciato all'inizio del 2017 con l'accusa di Frontex verso le ONG. L'Agenzia europea per il controllo delle frontiere ha accusato le organizzazioni non governative di essere un fattore di attrazione per i migranti che cercavano di raggiungere l'Europa. Le accuse di Frontex sono state riprese da diversi giornali e blogger italiani e infine dalla procura di Catania che ha accusato addirittura gli umanitari di collaborare con i trafficanti di esseri umani. Queste accuse hanno spinto il Senato della Repubblica ad aprire una commissione di inchiesta parlamentare per chiarire il ruolo delle ONG nel Mediterraneo. L'inchiesta ha escluso le connessioni tra i trafficanti di esseri umani e le ONG, ma ha chiesto che fosse adottato un codice di condotta, un regolamento comune. Il codice di condotta è uno statuto in 13 punti che nell'estate del 2017 il Governo italiano ha chiesto di sottoscrivere alle sette organizzazioni umanitarie che stavano operando soccorsi di migranti nel Mediterraneo centrale dal 2015. Il piano prevedeva alcune questioni controverse come il divieto di operare trasbordi da una nave all'altra e la presenza a bordo di ufficiali giudiziari armati. Questi due punti sono stati contestati dalle organizzazioni umanitarie che hanno accusato il Governo di non avere a cuore l'obiettivo principale di una missione di soccorso, la salvaguardia delle migliaia di persone che a bordo dei comuni abbandonano le coste libiche per raggiungere l'Europa. Alcune organizzazioni come Medici Senza Frontiera hanno rifiutato di firmare l'accordo dicendo che molti dei punti previsti dal regolamento erano già rispettati e altri avrebbero messo appunto in pericolo la vita delle persone da salvare o addirittura erano contrari al loro statuto interno come quello di avere guardie armate a bordo. Alla fine due organizzazioni non governative non hanno firmato e hanno interrotto le operazioni nel Mediterraneo centrale mentre altre cinque hanno deciso di firmare. Le ONG però sostengono che il codice di condotta non abbia un valore legale e sia servito più che altro al Governo per gettare discredito sull'operato delle organizzazioni, allontanarle dall'area di ricerca e soccorso, un'area che avrebbe dovuto passare sotto il controllo della Guardia costiera libica che nel frattempo era stata addestrata dalla Guardia di Finanza italiana. In questo modo, dicono le ONG, non ci saranno più testimoni indipendenti che potranno raccontare quello che succede in quel tratto di mare, i naufragi, i morti. Soltanto nel 2017 sono morte più di duemila persone davanti alla Libia. La Guardia costiera libica nel frattempo è sotto inchiesta alla Corte Penale Internazionale per i suoi abusi e per i suoi contatti con i trafficanti e a questo punto potrà intercettare i migranti in mare e riportarli nei centri di detenzione senza che ci siano testimoni a documentarlo.